Il Capitano Rogers Ci vediamo lì Aveva suscitato grande curiosità il tuo ritrovamento negli acciaio Pensavo che Coulson sarebbe svenuto Ti ha già chiesto l'autografo sulle tue figurine di Captain America? Figurine? Sono vintage, ne va molto fiero Dottor Banner Sì, salve Sapevo che sarebbe venuto anche lei Dice che lei troverà il cubo E questa è l'unica voce che gira su di me? L'unica che può interessarmi Deve essere strano per lei tutto questo Ma a dire il vero è molto familiare Signori, vi conviene sbrigarvi a entrare Sarà difficile respirare tra poco E' un sottomarino Sì Vogliono mettermi dentro un container di metallo pressurizzato No, no, questo è molto fessi Sottomarino O Rio Sottomarino Oh Sottomarino 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 Cap shares Ma non c'è chi non aver incompletato, ciclico in posizione, incrementare collettivo all'80% Impianto di propulsione al massimo, libertà di manovra Tutti i motori in funzione, procedura d'emergenza SHIELD 193.6 in vigore E va all'ottimale signore Bene, possiamo svanire Azionare i pannelli retto i fissori Grazie a tutti Grazie a tutti